il codice gratuito www.qrnetacode.com create il vostro qr code gratuito il mio codice personale inizio continua creare il codice ho fatto il codice adesso lo si può fare su Facebook, Twitter se si voglia download e il vostro ci sono pochi secondi questo codice statico non potete salvarlo potete cambiare non potete cambiare fantasticamente se volete io voglio gestire creare o analizzare le code di soli senza obbligazione neoprocessanza ecc anche se non c'è solo io voglio mettere gentilmente a fare qualcosa ma voglio prendere anche il logo se voglio si scarica se voglio incorporarlo un po' posso scrivere il codice nel pochi minuti ci può anche prendere anche su su Facebook il codice che c'è la possibilità anche di codificare il codice con i numeri con i numeri se vuoi coprire questo modo anche se dove si vuole ho aggiunto la figura che mi ha condiviso anche il codice che mi ha dato il codice su Facebook adesso continuiamo se è vero vedete qui l'ho incorporato il codice QR che corrisponde appunto risponde il codice risponde appunto l'indizio URL www.facebook.com il codice par Sergio . come la non . qui Grazie. Grazie. Cortesemente il sito www.qrlinetcode.netgeneral. Grazie a tutti. Condividendo. Questo è quanto? Grazie. 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 Saluto. Grazie. Vai. Grazie. 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 il sito tipico www.qr.netacode.com qui metto www.qr.netacode.com questo qui mi da anche l'HTML corrispondente questo è questo ti posso guardare la copia in colla e metterlo come voglio il mio sito facebook www.qr.netacode.com un pezzetto di un progetto www.qr.netacode.com qui consulta il sermon Ferro Torn cumple a Cloud lqxxxxxxxxx xxxxxxxf Ma che inglese? C'è... No, vediamo quali criteri sono inseriti. Sebris. Se non mangeranno domani potrebbero morire. Lo stomaco di John è gonfio. Lo fa stermato. Lo stima. Il suo corpo è per il gioco di formazione. La sua mamma fa quel che può che non credo. Il gioco di formazione. Il gioco di formazione. Troppi bambini affamati. Il gioco di Filippo Gonzales. Torani. Con il territorio. Il gioco di Piazza. Si è venuto in Parigi. Estimati. Eccitati. Anche i bambini simpatici. Ma non è troppo. E' una stampa. Bellezza. E' risoluto. Tanti bambini vanno tra i tipi del cibo e l'acu terapeutico. Puoi aiutarli a sottoporsi a controlli medici. Perché non si ammarino. Puoi contribuire a dare alle loro famiglie il supporto necessario per coltivare gli alimenti di cui hanno bisogno. Grazie a questi interventi. Non salverai soltanto la loro vita oggi. Non salverai soltanto la loro vita oggi. Non salverai lì lo futuro. Chiamate a 6 dicembre. L'ottocento. 98. 88. 65. 9 a 9. Troppi bambini come Giovanna non hanno mangiato oggi. Aiutaci a farli mangiare domani. Grazie. E' una mia amore di Fiora di mio papà. E' un po' qua, un po' là. E' un po' là. E' un po' se place da fredda. Si pazzio. E' un po' là la mia, un po'. Non mi racconta o il mio padre. E' un po'. Che tu le ho? Si puoi vedere con la mia amore. La mia amore. Io vi ho. a e 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 tra l'altro e e e e e e e del Partito Democratico perché io ero responsabile del lavoro del Partito Democratico quel disegno di legge da diritti a chi oggi non ha diritti da ammortizzatori sociali a chi oggi se perde il lavoro non ha nulla da salario minimo a chi oggi può guadagnare anche sotto una soglia da diritti di maternità a quelle ragazze che se decidono di avere figli e purtroppo anche spesso anche per questo decidono di non farlo non hanno alcun diritto di maternità da un contratto a tutele crescenti quindi chiaro con delle tutele a chi oggi passa da un lavoro a progetto a una partita iva in uno spezzatino di contratti io non vedo le cose dal tuo punto di vista è staccato da la parete e si ritagherò che si riporta il frammento del ma nel film scrive una canzone molto simpatica molto radiale